Far divertire diffondendo la cultura del riciclo. Nasce così Viareggio Eco Village, la manifestazione itinerante partita il 20 luglio e in programma fino al 10 agosto, fra spettacoli, giochi e laboratori, dalla passeggiata alla pineta di Ponente, passando per il giardino di Villa Paolina. Eco Village si inserisce nell'ambito di quello che il Comune di Viareggio sta facendo con la strategia di Fiuti Zero, proponendo un programma di educazione ambientale sul messaggio dell'importanza della cura dell'ambiente, della raccolta differenziata e di tutte quelle azioni virtuose che ci consentono quotidianamente di dare il nostro contributo a migliorare la qualità dell'ambiente. Il primo importante appuntamento è previsto per sabato 24 alle 21 a Villa Paolina con lo spettacolo Magicamente Plastica. Fra gli appuntamenti, dal 4 al 7 agosto, la raccolta delle lattine sulla spiaggia, in collaborazione con il Consorzio Nazionale Imballaggi in Alluminio e sempre in agosto, il Mega Arcobaleno Ogni Lattina Vale. Questa iniziativa è all'interno di un'organizzazione europea che si chiama Every Can't Can't, Ogni Lattina Vale. È un Mega Arcobaleno, quindi saranno 7 metri e mezzo di larghezza per 4 di altezza, tutto colorato, che permetterà di evidenziare appunto l'importanza del riciclo dell'alluminio. Un progetto che parla soprattutto ai giovanissimi, superando le iniziative fatte a scuola, organizzato dal Comune di Viareggio con 6 risorse, 6 ambiente e i consorzi nazionali Corepla, Ricrea e Cial. Purtroppo la pandemia non ci ha consentito di portare avanti queste iniziative durante l'inverno e quindi abbiamo deciso di fare una manifestazione diversa durante l'estate all'aperto. Saranno diversi eventi, da eventi teatrali a laboratori e caccia al tesoro.